la classifica dopo la sconfitta di Genova ma con la Samp invece la prima di campionato la Lazio trova il primo successo stagionale Rocchi per Mauri per il gol dell'1-0 nel secondo tempo Mauri tra i migliori nella squadra di Edireia, poi si scambiano il favore i due, grande palla di Mauri per Rocchi esterno destro, pallonetto su Viviano e il gol del raddoppio laziale 2-0 l'Olimpico si sveglia poi nel finale il Bologna che corcia le distanze con un gol bellissimo, realizzato da Modingai, uno dei gol più belli della giornata Modingai tra l'altro ex giocatore della Lazio sinistro nell'angolino battere Muslera, il gol che riaccende le speranze per la formazione di Malesani poi Foggia entrato nel secondo tempo serve un pallone dentro l'area c'è fallo e calcio di rigore secondo il direttore di gara per intervento di Portanova che protesta e si lamenta dal dischetto, il neoquisto Hernanes fa impazzire il pubblico dell'Olimpico la Lazio batte il Bologna